Ciao a tutti, oggi video in collaborazione, questo video è un video sui prodotti top e flop del 2013, tutto l'arco del 2013, è un video che io amo moltissimo, mi piace molto e ne ho guardati tanti in questo periodo, è un video che aspetto tutti gli anni, tutti gli anni, come se fossi su YouTube una vita, in realtà no, è un annetto, però comunque magari prima guardavo video, è comunque una tipologia di video che mi piace molto guardare perché li trovo interessanti, sono anche i più utili, perché sono una sorta di riepilogo di ciò che pensiamo, di tutti i prodotti che abbiamo provato durante l'anno e quindi insomma piacendomi molto guardarli non potevo non farlo e questo video è in collaborazione con un'altra ragazza che è di Bergamo, una mia compaesana, siamo solo in due, tre anzi, di Bergamo qui su YouTube e penso non ce ne siano altre, se qualcuno invece l'ascolto si palesi, comunque niente, si chiama la Sgueri, vi lascerò appunto tutti i link sotto, è una ragazza molto molto carina, molto bella e niente, gli ho proposto insomma questa collaborazione bergamasca ecco e quindi niente, vediamo un po' cosa amano le bergamasche allora non è un video preparato, quindi non ho preparato i prodotti prima ma ve li piglio così dalla mia postazione, vi dovrò fare anche il video in realtà sulla postazione prima o poi perché è cambiato tutto, ora mi vedete sempre riprendere da questa prospettiva perché davanti a me ho la mia scrivania che non è più una scrivania ma è diventata la postazione, mentre prima, l'avrete visto nei video, non esisteva e mi truccavo alla finestra là dietro, che so che è un po' scomoda quella finestra là dietro, fa un po' schifo però d'altronde la mia cameretta poverina è fatta così, quindi vabbè non fate caso al disordine che c'è intorno a me, non lo guardate e niente, quindi io base a come ho le cose insomma vi tiro fuori quello che mi piace e vi faccio insomma vedere, parto dai top perché è sicuramente più semplice e poi magari vi farò appunto il video dei flop, faccio due video separati perché sennò avviene una cosa lunghissima e cosa vuol dire, ci sono dei prodotti che ho appena acquistato recentemente, di cui però non voglio ancora parlarvi perché è un pochino presto, quindi non li vedrete perché comunque quelli voglio dargli insomma un attimino più di tempo per provarli, farmi un'opinione e se poi vale la pena saranno prodotti che vedrete comunque nel corso di quest'anno, di questo 2014, perché no nei top del 2014, se sarà, quindi magari alcuni degli ultimi prodottini nuovi, non ve li faccio vedere, tipo non so il color infalible, mi viene in mente subito, o gli ombrettini di pupa, ho girato pochi giorni fa il video haul, però sono prodotti appena entrati nella mia collezione, quindi non so ancora bene dirvi tutto sì o no con chiarezza, ecco, quindi preferisco aspettare un attimo. Allora, partirei con i prodotti viso, sì, partiamo con i prodotti viso. Allora, la base, come baser, come primer viso, io sicuramente vi consiglio, allora, dove sono? Di quelle che ho, due ve ne consiglio, e sono questi due, sono prodotti altamente siliconici, ma come non posso, cioè, per forza, nel senso i primer, per forza di cose devono contenere un po' di schifezze, perché comunque devono cercare di isolare la pelle e, come si dice, creare una sorta di film protettivo che riveste la pelle e che poi va a attenuare imperfezioni varie, va a rendere il trucco più resistente. I due che mi sono piaciuti sicuramente di più sono appunto questo qui di Catrice, il Prime & Fine, che ho utilizzato diverse volte, ma soprattutto nelle occasioni speciali, perché è molto, non pesante, perché non è il termine giusto, non so come dire, si fa sentire, ecco, diciamo, non è un primer leggerissimo, è molto, molto potente, molto levigante, il risultato sicuramente è d'effetto, perché comunque vi lascia la pelle bella levigata e minimizza i pori e quant'altro, quindi comunque un bel effetto, ma un effetto quasi fin troppo finto e quindi insomma lo utilizzo proprio solo nelle occasioni speciali. Idem, questo qui di Elf, anche questo l'ho utilizzato un po' più spesso, però anche questo tendo a utilizzarlo più in un'occasione un pochino più speciale, diciamo che solitamente il primer non l'utilizzo, il primer viso non l'utilizzo quasi mai, perché metto la BB Cream o un fondotinta e proprio soltanto in rare occasioni metto il primer, quando so che magari il trucco mi deve durare tutta la giornata oppure la sera per occasioni speciali, insomma. E anche questo mi piace perché ha lo stesso effetto assolutamente levigante e morbidissimo sul viso. In quanto a durata, io sinceramente non vedo un'effettiva, come si dice, una resistenza maggiore del trucco con o senza primer, è una cosa a cui non ho mai fatto troppo caso, più che altro l'utilizzo proprio per levigare e se ho particolari imperfezioni più che per la durata del prodotto, quindi non ci ho mai fatto caso, sicuramente di più, però ecco, così insomma. E sono appunto questi due, i prezzi non me li ricordo assolutamente, mi sembra questo costasse 8 ma l'avevo pagato 4 con il 50, ancora il primo ordine che ho fatto, il primo e il secondo ordine che ho fatto ELF, quindi un sacco di tempo fa, ha più di un anno, nonostante la scadenza qui sia di 6 mesi ma l'utilizzo comunque anche ora, non mi dà nessun problema. L'unica forse scomodità è il fatto che essendo a pompetta, la confezione è molto carina prima di tutto, quello sì, però essendo a pompetta ogni tanto non esce fuori il prodotto, devo stare a sbaccioccarlo un po' e ecco l'unico difetto forse è quello, mentre questo essendo in vasetto si tira fuori con le dita, quindi ok. E questo insomma Catrice, quindi non so 4-5 euro, una roba del genere, però mi piace molto. Poi come fondotinta? Allora fondotinta l'ho provato un bel po' e sinceramente non mi sono fatta un'opinione, cioè non ho mai detto sì questo è il fondotinta della mia vita, praticamente quasi mai. Mi sono piaciuti, questo sì posso dirvelo, diversi prodotti che ora vi mostro appena riesco, allora uno, poi scusate eh, perché i fondotinta sono qua sotto, allora devo fare un po' di casino e tirarli fuori, tra quelli minerali e tutto il resto, allora, 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 in realtà ce ne sono un po' che mi sono piaciuti devo dire, vi faccio vedere quelli che ho attualmente, perché gli altri finiti non me li ricordo, però allora uno che mi è piaciuto, che sto utilizzando in questo periodo è questo, il Clear & Matte Makeup Oil Free di Essence, questa è la colorazione Sand 03 e questo l'avevo trovato praticamente in saldo a un euro e qualcosa ancora quest'estate se non sbaglio, sì, erano dei prodotti diciamo che erano super scontati e avevo voluto provarlo insieme a quell'altro al Makeup to Match, questo qui, che però mi piace meno perché è meno coprente, questo qui mi piace perché la stesura è ottima, non è troppo liquido né troppo corposo che non si riesce neanche a stendere, si stende molto bene, io tutti i fondotinta li stendo col pennello, il mio accuro, il numero non me lo ricordo, poi ve lo faccio vedere, quasi sempre utilizzo quello, quindi utilizzo col pennello, si stende bene col pennello, si stende bene anche con la spugnetta, ma io preferisco l'applicazione col pennello, come dice qui è matt, però non è pesante, quindi lascia un bel incarnato omogeneo e matt, ma comunque luminoso, cioè non è di quelli pesanti, pastosi, che danno fastidio sul volto e che si vede proprio che avete il mascherone in faccia, assolutamente no, è molto comunque leggero, nonostante appunto sia coprente, una medio alta coprenza, ed è oil free, quindi assolutamente sulla pelle non lascia quella sensazione proprio di patina untosa che dà parecchio fastidio, come invece per esempio è un flop, vabbè ve lo anticipo, questo qui di Mua, che è matt anche questo, ma vabbè ve ne parlerò, questo mi è piaciuto, infatti non l'ho più trovato, mi è dispiaciuto perché io mi sono trovata bene per il prezzo qualche anno, mi sono trovata bene, quindi questo, poi sempre di essence, andiamo sull'economico ma meglio così, il soft touch mousse makeup, anche questo, comunque molto più conosciuto, questo è ancora in commercio, e allora a parte il fatto che le colorazioni secondo me sono un pochino sbagliate, sono un pochino o troppo chiare o troppo scure e la colorazione adatta per me non l'ho ancora trovata, questo qui è un prodotto che mi piace moltissimo, sia per come si stende che proprio per l'effetto poi finale e la durata, devo dire che però per durata questo dura un po' di più di questo qui in mousse, però il risultato è molto bello comunque sul viso con entrambi e mi piacciono comunque quelli in mousse perché boh non lo so, mi piace la consistenza in mousse, anche comunque da applicare con la spugnetto anche con le mani, mi piace, mi piace parecchio. Poi mi piace il soft focus compact, allora io vi faccio vedere questo che è quello diciamo della linea classica di Kiko, però in realtà che mi piace non è questo, ma quello della collezione estiva che si chiamava, non mi ricordo, ma non importa perché tanto non c'è più, però vi faccio vedere questo perché più o meno sono identici, cioè sono lo stesso prodotto e sono praticamente il fondotinta compatto wet and dry, quindi si può utilizzare sia asciutto che bagnato ed è compatto, fatto appunto così, con la spugnetta sotto, questo mi sembra, qua sotto c'è la spugnetta e questo l'ho utilizzato una volta, ma l'effetto mi sembra molto molto simile appunto a quell'altro che avevo, cioè che c'ho ancora, ma è a casa del mio amoroso perché è nella Trousse, quella che uso quando vado da lui e mi sono trovata benissimo, con quello l'ho utilizzato tutta l'estate, copre molto molto bene, è leggero sulla pelle, dura, fa un bell'effetto opaco, mi piaceva, mi piaceva tanto, principalmente ho utilizzato, scusate, ho utilizzato asciutto perché bagnato, cioè non mi piace andare a bagnare il prodotto in polvere perché poi mi sembra sempre che mi lasci un po' la patina bagnata sul prodotto che poi va a scrivere meno, insomma non volevo rovinarlo, quindi bagnato non l'ho mai utilizzato, al massimo sporcavo la spugnetta del prodotto e inumidivo quella e poi me lo applicavo sul viso, ma non andavo mai direttamente con la spugnetta bagnata sul prodotto, poi cioè si può fare però, insomma, e quindi niente, questo qui non è probabilmente il top, però sicuramente è un prodotto che mi piace, l'ho usato solo una volta quindi non vi so dire bene, ma ve lo cito perché comunque quello della collezione estiva mi era piaciuto molto l'effetto, quindi questo dovrebbe essere uguale, quindi ecco. Poi un altro fondo che mi è piaciuto, adesso qua rincastrare le cose tutte dentro, ci metterò una vita in mezzo, ce la posso fare, un altro fondo che mi è piaciuto è lo Stay All Day 16 Ore Long Lasting Makeup della Essence, sempre Essence perché, vabbè, mi piace molto il fatto che siano comunque fondotinta low cost, quindi anche se non sono il top del top, però davvero costano poco e fanno il loro egregio dovere, quindi comunque piuttosto che andare a spendere un sacco di soldi per i fondotinta super costosi, preferisco prendere questi qui e provarli, un po' per volta provarli, comunque so quello che ho speso, se poi mi trovo male con un fondotinta che costa tanto mi girano parecchio le scatole, quindi tendo comunque sempre ad andare su prodotti low cost tipo questi o Maybelline o robe del genere, insomma. Ne avevo un altro di Maybelline che mi piaceva un sacco in mousse, ma l'ho finito, no, forse c'è ancora un pelo, dov'è qua? Sì c'è ancora un pelino. Anche questo, il Dream Creamy Foundation, questo qui, mi piace un sacco, peccato che questa è la correzione 30 Sand, è un po' troppo chiara per la mia carnagione, vedete praticamente è finito, questo l'ho adorato perché è pazzesco, lascia la pelle di un uniforme vellutato, è incredibile, uniforma, copre, idrata anche, mi piace, questo qua mi è piaciuto un sacco, infatti vorrei ricomprarlo, però devo trovare la colorazione insomma un po' più adatta. E niente, ed è questo qui. E basta direi, ok, adesso metto un attimo a posto perché se no faccio casino. Ah e poi non mi sono trovata male neanche, non mi è venuto in mente, col Mineral Foundation di Elf, questo qui, per quello che costa non mi sono trovata per niente male neanche con questo, l'ho usato d'estate, ora non mi ricordo, però mi sono trovata bene anche con questo qui, niente da dire neanche su questo. Che casino! Poi per quanto riguarda BB Cream non c'è assolutamente nulla da dire se non citarvi sopra tutte le altre, perché per questa non ho nessun dubbio, tra tutte quelle che ho provato è la mia preferita, è lei, famosissima penso, usatissima e apprezzatissima, è la BB Cream, quella di Garnier per pelli miste, grasse. Io avevo anche quell'altra, questa qui, che ormai è finita, questa per esempio aveva un ottimo odore rispetto a questa, che ha un odore pessimo, ma faceva schifo, cioè si uniformava, aveva una coprenza leggerissima, durava niente, era una crema colorata come possiamo farci noi con un po' di fondotinta e una crema qualsiasi, insomma. Questa invece è ottima perché oltre a coprire, ad essere abbastanza coprente, lascia un effetto bellissimo sul volto, opaco, coprente, duraturo, idratante, effetto quasi direi anche matt, nonostante appunto sia una crema, una BB Cream, però non è oleosa, non lascia il viso unto o pesante, è leggera, confortevole, dura tutto il giorno, mi piace un sacco e questa qui la ricomprerò, sicuramente ne ho un'altra, della colorazione quella più media, questa è quella chiara, ho anche quella media che utilizzo magari d'estate, a volte le mischio per creare la colorazione giusta perché questa è un po' chiaretta, l'unico difettino che ha, che è un po' chiara, però d'inverno va bene perché comunque magari poi mi faccio un po' di contouring con una terra un po' più scura, quindi ci sta da dio e perfetta questa, la amo alla follia e penso che non comprano mai più nessun'altra BB Cream perché ormai mi sono innamorata di questa, ero curiosa di provare quelle della Sobio perché l'ho sentito parlare molto molto bene, quindi magari proverò quella, va per le altre, mi è sempre piaciuta anche questa qui di Essence e mi piace ancora, però è diversa, non è così coprente, è un po' più grassina, un po' più pesantina sulla pelle, però c'è anche questa niente da dire, nel che comunque c'è un abisso di prezzo, questa qui 1 euro, 2 euro e questa 9, quindi comunque se volete andare al risparmio, magari siete senza e avete pochi euro, vi potete benissimo comprare anche questa che ci sta, però questa in assoluto è la migliore, infatti io spero di trovare qualche promozione tipo ad acqua e sapone perché 9 euro è un po' tantino, ecco, spero che di trovarla in promozione, poi ciprie, sì passiamo alle ciprie, allora ce ne ho tante di ciprie, ciprie sono anche queste, ne ho comprate in infinità perché mi sono, mi piacciono, è un prodotto che trovo fondamentale, ecco diciamo così, e tra tutte, non so quale farvi vedere, beh sì, penso che le mie due preferite siano, allora 1, 2, 3, 4, allora sì, quella in polvere preferita è la Fix & Matte di Estense, che è una cipria appunto in polvere libera, traslucida, quindi trasparente, è leggerissima, finissima, ha una polvere davvero impalpabile, leggera, liscia, lascia la perra immorbida, opaca, ma non secca, non mi si infila nelle pieghette del viso, quindi non mi va ad enfatizzare troppo diciamo le rughe che purtroppo la mia veneranda età ormai stanno comparendo, opacizza, ma non è che sbianchi, sì forse spegni un attimino il colorito, ma proprio una cagatina, nel senso è una cosa che non si nota, e mi piace molto, cioè io ho trovato proprio una differenza mi sale usando questa e per esempio quella di Mua che ho, anche lei è in polvere libera, anche con questa mi sono trovata bene perché comunque opacizza, mi dura tutto il giorno, mi sono trovata bene anche con questa, però se devo fare un paragone, questa è molto più fine, molto più leggera, molto più setosa al tatto, quindi sicuramente mi piace di più, cioè ho notato la differenza, e niente, ho anche la versione compatta, che però non ho ancora utilizzato perché ho altre cipre da terminare, quindi quella l'ho lasciata un attimino da parte, però insomma è uguale a questa, quindi penso proprio che sia ottima come questa, poi le altre tre cipre, vabbè, ho quelle di Bottega Verde, che però, dove sono? Ecco, sì, una qui, che però va a momenti, nel senso che le colorazioni non sono sempre adatte al mio incarnato, io prima utilizzavo solo esclusivamente questa ciprea, e la prendevo solo esclusivamente quando sul sito di Bottega Verde c'era tutto 4,90€, allora lì facevo scorta sia di fondotinta, che però non sono i miei preferiti, quindi non ve li ho citati, sia di ciprea e correttori, però vabbè, non mi fanno, diciamo, impazzire. Queste, invece, la ciprea è molto molto valida, mi piace, matifica, setosa, va a uniformare bene il colorito, l'unica cosa è che utilizzata proprio come ciprea, se mettete anche il fondotinta, magari il primer, ok? La trovo un po' troppo pesantina, quindi tendo a utilizzarla magari o solo quando ho particolari imperfezioni che voglio andare ulteriormente a coprire se il fondotinta o la crema o quello che è non me li ha coperte, allora utilizzando questa che è colorata e coprente vado ulteriormente a uniformare il mio incarnato e a coprire le imperfezioni, o se no la utilizzo anche proprio da sola, come se fosse una specie di fondotinta in polvere compatta e mi ci sono sempre trovata molto molto bene, quindi niente, anche questa, insomma, ve la segnalo perché mi piacciono, ne ho diverse, di diverse colorazioni e non con tutte mi trovo bene allo stesso modo, diciamo, questa è la beige naturale, poi dipende dai periodi perché, tipo, quest'estate mi sono trovata benissimo con una che stavo utilizzando che era un po' più scuretta, adesso non l'ho finita, ma per esempio adesso invece non mi ci trovo bene per niente perché, boh, non mi piace l'effetto, il colore non è adatto adesso, insomma, non mi piace. Poi altre ciple che mi sono piaciute sono sicuramente la Complexion Perfection di Elf, questa è quella, vabbè, che sto finendo, ma ne ho altre due già pronte per l'utilizzo perché mi è piaciuto tantissimo questa tipologia di cipra, è fatta con i quattro colori che, vabbè, ora voi adesso non vedrete, ma tanto la conoscerete, quattro colori diversi che insieme opacizzano e rendono l'incarnato uniforme, è trasparente se si utilizza tutto insieme oppure potete andare a utilizzare i singoli colori dove vi necessita per varie imperfezioni di colore, è molto, molto, molto opacizzante e niente, mi piace, assolutamente nulla da dire, ve l'ho mostrata penso più volte perché è una cipra ottima, infatti vedete che è quasi finita e l'ho già ricomprata appunto due volte, quindi questa sicuramente mi piace, poi per il costo che ha, il prezzo è 4,50 euro, prezzo pieno, ma Elf, come vi ho detto, mille volte, fa un sacco di promozioni, anche più, fino al 50%, quindi la pagate 2 euro e qualcosa, direi che è un ottimo prezzo e va provata, se vi va. Un'altra che ha più o meno la stessa funzione è la Traslucion Matifin Pounder, sempre di Elf, stessa confezione, però all'interno è fatta così, devo stare attenta perché è tutta rotta, questa mi è arrivata rotta praticamente, poi vabbè mi hanno rimborsato, gentilmente e giustamente, ed è praticamente anche questa una cipra, che la vedete rosa qui, ma in realtà è anche questa traslucida, quindi trasparente, e anche questa devo dire che mi è piaciuta molto, peccato che essendo rotta, faccio un po' fatica ad utilizzarla e ho sprecato un bel po' di polvere, però devo dire che l'effetto è molto caino, è opacizzante ma non quanto quell'altra, però ha proprio un bel effetto sul volto, l'unica pecca è che c'è poco prodotto all'interno, perché comunque nella confezione così, che nell'altra è tutta piena, qui abbiamo praticamente metà l'altro la spugnetta e nell'altra metà il prodotto, quindi c'è poco prodotto, però valida, mi è piaciuta, mi è piaciuta, poi un'altra sempre di Elf, che dove cacchio l'ho messa, è la Mineral Booster, dove è? Eccola qui, questa qui, la Mineral Booster, un bel robo, io ho preso quello grande perché era un'offerta e quindi mi sono presa questa versione più grande, se no c'è anche quella più piccola, stesso discorso che per quella Essence, leggera, impalpabile, matificante, setosissima, non dà fastidio sulla pelle, non va a infilarsi nelle pieghette, ottima, 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 davvero, anche questa qui mi è piaciuta sempre tanto, ottima, e poi guardate, c'è un sacco di prodotto, perché sono quanti grammi, dove si sta scritto, no era scritto sulla confezione esterna, qui non c'è scritto, comunque tantissimo, l'unica pecca costa, come è durata, qui c'è scritto 3 mesi, però vabbè, è improponibile finire una roba così in 3 mesi, penso, perché comunque è tantissimo prodotto, 3 mesi è indicativo, ecco, non vi fate problemi sulle scadenze, perché dovreste saperlo, ormai lo devono mettere, lo devono scrivere per sicurezza loro, personale, delle aziende, però non succede assolutamente niente in più, un prodotto in polvere minerale, non succede assolutamente niente, io ce l'ho da molto più di 3 mesi, quindi, e va benissimo, non mi ha mai dato problemi, niente, che casino, ok, e con le cipre ci siamo, passiamo alle terre, terre non ne ho tantissime, ma sicuramente le due che preferisco sono queste due, e tanto per cambiare sono Essence ed Elf, non ho altre cipre più costose, avevo, cos'è, Mua, una dell'erborario, un'altra Essence, Essence, Elf, sì, diciamo che ho tutte comunque cipre low cost, perché è un prodotto che non ho mai utilizzato tantissimo, cipre, terre, è un prodotto che non ho mai utilizzato tantissimo, e quindi l'ho comprata poche volte, le due che assolutamente preferisco sono queste due, che sono la Cool Bronzer di Elf, che è quella fatta così con i quattro colori, ottima perché è opaca, ha questi quattro colori che quindi riuscite a ricreare il giusto, diciamo, tono per la vostra carnagione e farvi un contouring naturale, io la utilizzo appunto prevalentemente per il contouring, quindi assolutamente deve essere opaca, e un tono al più possibile freddo, perché non mi piace proprio l'effetto arancione di certe terre, ma come penso nessuno ormai, peccato che ne fabbrichino di più di arancioni che di marroni invece belli freddi. Questi due marroni però sono abbastanza freddi, questo è un po' più caldo e questo è un bianco, e con questa si può giocare bene e creare un bel contouring opaca, quindi perfetta, e mi piace un sacco, e poi appunto anche il prezzo è ottimo, perché sempre soliti prezzi di Elf 450 oppure scontata, quindi ottima, mi piace, se devo fare il contouring utilizzo sempre o questa appunto, o questa qui di Essence, che è la Bronzing Compact Pounder Matte, anche questa appunto mi piace perché è matta, è un colore un po' più caldo e più chiaro dell'altra, ma l'effetto è comunque molto molto carino, e appunto se io devo fare il contouring utilizzo queste due, anche questa, a solito prezzo di Elf, mi piace, questa qui ce l'ho da un sacco, sono 10 grammi di prodotto e comunque per fare il contouring non utilizzate tanto, quindi vi dura anche parecchio, e niente, ed è questa qui, mi piace. Se invece si vuole parlare di qualcosa di più shimmer, e quindi un bronzer, qualcosa che va spennellato, diciamo, sul tutto il volto per l'effetto abbronzato, una che mi piace tantissimo, ma soprattutto perché è low cost, è la Hurt Glow Bronzing Pounder di Elf, sempre, e questa è la Sunkissed, e mi piace da morire, ed estate la utilizzo tantissimo anche come illuminante perché è una bella terra, molto 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 luminosa, non è glitterata, quindi non è che ha l'effetto glitterato, ma è un po' un satinato, cioè è bella luminosa, non è opaca, quindi comunque sta bene quando lo andate a utilizzare proprio su tutto il volto per darvi un po' di luce, o in qualche punto, o magari tipo sopra il blush, è molto molto carina, 1,70€ a prezzo pieno, quindi in saldo 85 centesimi, non è un cavolo, è un bel po' di prodotto, perché comunque anche questa ce l'ho da un bel po', stesso discorso, non se ne usa chissà quanta, quindi ottimo, io questa la consiglio. Io le altre colorazioni non le ho, questa è la Sunkissed, e a me piace, le altre non lo so. Poi, blush. Blush è una cosa molto difficile perché ne ho davvero tanti, e ne ho tanti, sia in polvere che in crema o liquidi o simili, insomma. Cerco di farvi vedere se ce la faccio, e ridivido quelli cremosi da quelli in polvere. Questi sono tutti quelli cremosi che ho, e vi faccio vedere quelli che ovviamente mi piacciono di più. Allora, sicuramente quelli che mi piacciono di più sono questi qui di Kiko, io ne ho due, ne faccio vedere uno a caso, questo è il 05 Bold Rose, che è un bellissimo colore, straforte, ma che poi sulle guance è modulabilissimo, e non è così eccessivo, ma anzi è molto 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 carino. Questi mi piacciono tantissimo,issimo,issimo, perché hanno una consistenza super particolare, nel senso che sono cremosi, e al tatto risultano cremosi appena ne andate a prelevare, però una volta stesi, cioè proprio già mentre li state stendendo, sentite che la consistenza cambia e diventa quasi polverosa. Mi piacciono molto e durano tantissimo, la loro durata è davvero eccezionale, nel senso che una volta che li mettete si fissano e vi durano davvero quasi tutto il giorno. Quindi a me questi erano piaciuti moltissimo, non solo per la consistenza particolare, i colori belli accedi, ma anche proprio per la durata che hanno, perché durano tanto, tanto. Queste sono di un'edizione limitata della Kiko, quindi purtroppo non è più reperibile se non in alcuni outlet, spero se avete culo, ma dubito, però non potevo non citarveli perché sono sicuramente uno dei blush miei preferiti dell'anno, quindi ecco. Poi, altro prodotto che mi è piaciuto moltissimo, dove sono? Sempre appunto in crema, sono questi qui di Elf, questo barottolone qua di Elf, questa è la colorazione Heartbreaker, che è un bellissimo colore, di questi blush ve ne ho parlato un sacco, perché sono super particolari anche questi, come consistenza, nel senso che è una consistenza gommosa, diciamo, molto 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 particolare e mi piace un sacco, hanno dei bei colori anche questi, io ne ho due e niente, mi piacciono, ve ne ho già parlato, quindi andiamo oltre, perché sennò qua non finiamo più, comunque questo qui, e poi sicuramente che mi sono piaciuti sono questi due, sempre di Elf, ma ci sono dei prodotti che purtroppo mi fanno impazzire di Elf, alcuni prodotti li odio, ma altri li amo e non posso insomma non parlarvene, perché se mi piacciono io ve lo dico, io ho queste due colorazioni qui, che sono il Superstars, che è bellissimo, e l'Encore, che è fin troppo forte, infatti sono poco riuscita a utilizzarlo sulle guance, perché è un colore molto forte e bisogna stare molto attenti e metterne poco, perché sennò rischiate di fare un macello, questi mi piacciono molto perché si chiamano HD Blush, oltre a durare tantissimo e oltre a doverne, come si dice, ovviamente se ne usa un pelo, perché davvero con una goccina di questi vi fate tutte e due le guance, sono modulabili, quindi potete stratificarli, creare l'effetto desiderato, ma un'altra cosa molto molto bella e carina di questi blush è che si possono utilizzare anche sulle labbra come rossetti, e durano tantissimo, più di un rossetto qualsiasi, questo sicuramente, quindi mi piacciono molto perché hanno questo doppio uso, mi è capitato appunto di portarmi dietro, se dovevo andare via uno solo di questi, sia per le guance che per le labbra, e stavo a posto, ovviamente dovete avere un pennellino, comunque stare attenti ad applicarlo con il dito, però mi ci sono comunque sempre trovata bene, i colori sono belli, sono pigmentatissimi, sono così come li vedete nel barattolo praticamente, e sono ottimi, anche questi linea studio 4R50 oppure appunto meno. Un altro che mi è piaciuto molto è questo qua di Nabla, che però appunto è uno dei nuovi prodotti che vi dicevo, è arrivato da poco, e quindi prima di parlarvene insomma voglio aspettare un attimo e lo metterò appunto nei preferiti dell'anno prossimo, ecco, perché comunque ce l'ho da poco, quindi non posso dire che è uno dei preferiti di quest'anno, visto che è arrivato a dicembre. poi invece la scatola di quelli in polvere, oddio mi si sfascia, mi si sta sfasciando, è questa, un po' più zeppa, non riesco a farvi vedere se non va tutto in giro, allora, sicuramente, dov'è? Tra i miei preferiti ci sono questi qua di Mua, sono molti prodotti di Mua, la scoperta davvero dell'anno, perché sono ottimi, pigmentatissimi, super scriventi, bellissimi colori e costano pochissimo perché vengono una sterlina, quindi 1,20€ a prezzo pieno, quindi davvero più poco ancora dei prodotti della linea essenziale di Elf. Questo è il mio colore preferito che è lo shade 5, ma mi piace tantissimo anche il 6, anche il 3, se non sbaglio, ed è questo bel quasi rosso, comunque un fucsia scuro scuro con dei riflessi dorati, ma non è per niente eccessivo in volto, l'utilizzo spesso, mi piace, l'ho comprato due volte perché era il mio preferito e poi davvero costano un cavolo, quindi ottimo. poi mi è piaciuto molto, vabbè, il silky touch, che ve lo dico a fare, anche di questo, per esempio questo è il 30 Secret Girl, che è un bel color pesca, anche di questo ne ho due, uno lo tengo qui e l'altro lo tengo nel beauty, nella bustina dove ho dentro le cose diciamo da viaggio, da borsetta, che mi porto dal mio amoroso, così. C'è dentro uno appunto che è uguale a questo, ed è sempre lì dentro, ma però mi piace anche molto la colorazione Venti Baby Doll, che è un po' più rosata, molto 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 carini. Mi è piaciuto molto anche questo qua, l'edizione limitata di Essence della Breaking Dawn, questo mi è piaciuto più che altro per i colori, perché è un bel rosso e a me piacciono i colori belli accesi, belli forti, quindi ottimo. Poi vediamo cos'altro c'è qua sotto, che casino. Ah beh, è certo, Elf, anche quelli di Elf, questi qui della linea studio, mi sono piaciuti, ne ho uno, due, tre, quattro, sì, quattro diversi, ok. E uno dei colori che mi piace di più è Blushing Rose, che mi piace di Oce, che è questo colore qui. Questi sono quasi tutti un po' glitterati, non glitterati, perché alla fine i glitter sono minuscoli, però luminosi, hanno dei riflessi sul dorato, quindi questo un po' come quello di Mua, si somigliano abbastanza, questo forse è un po' più acceso, questo invece è un po' più terra, un po' più mattone, però hanno entrambi questi glitterini, cioè glitterini, questi riflessi dorati. Questo è il Blushing Rose, poi c'è, allora, perché non me li ricordo neanche, capite? Il, ah, il Barry Mary, anche questo è bellissimo, questo era il mio preferito, ho sbagliato. Questo qui, che è più rispetto all'altro, è un po' più malva, però vabbè così non si noterà più di tanto. Poi c'è il, ah, questo qui, quello che non c'è scritto il nome, ma è quello chiaro, 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 che utilizzavo praticamente come illuminante. Ah, il PC King, ecco, che vedete, è chiarissimo rispetto agli altri, e infatti tipo, mi piaceva, ma non mi piaceva tanto utilizzato come blush, perché non si notava appena, diciamo, mentre ho utilizzato in combo con altri brush per dare un effetto luminoso, invece mi piace tanto. Sulle pelli invece chiare, pallide, bianchissime, questo qua secondo me deve essere una bomba, molto naturale, molto carino. E per finire ho il, non c'è scritto il nome, anche questo ho utilizzato molto. Eccolo qui, non so come si chiama, perché qua non c'è scritto il nome, non c'è l'adesivo dietro, c'è scritto soltanto un codice, ma non il nome. Comunque, vabbè, è questo qui, è uno di quelli più utilizzati, però non so che dire il nome, vabbè. E poi, anche di, sempre di Elf, mi è piaciuto molto anche il bucket blush, che è questo qui. E questo, anche qua, non c'è il nome. Mannaggia. Ed è questo qui, con questo effetto marmorizzato, è quasi più marrone che rosato, rossastro, però poi sulle guance diventa un color pesca molto, molto luminoso, carino, bello, mi piace anche questo. Ok. Aspettate che metto via. quanto riguarda il, come sta? Gli ombretti, gli ombretti, i blush minerali, mi è piaciuto molto questo qui di Minerale Puro, che si chiama Tramonto. È un fard, il nome è, sì, Tramonto. Non so come farete a vedere, perché è talmente piccola la cosa. Comunque, ecco, l'unica pecca è che è talmente piccolina la jar, che per prelevarlo, ve ne va in giro la metà. Però è un bel colore caldo, un po', un colore biscotto, biscotto mattone, quindi non è al solito rosa o curallo, ma è un pochino più particolare, mi era piaciuto molto, oltre al fatto che era molto soffice, l'astendibilità era ottima, pigmentato ovviamente, e niente, questo qui, se proprio devo segnalarvi qualcuno, qualche blush minerale. Ok, e con i blush direi che abbiamo finito. Facciamo che rimetto a posto tutto. Allora, come illuminanti ne ho un po', ma se devo scegliere, dov'è? Allora, ve ne faccio vedere quattro. Io non riesco davvero a scegliere, anche perché molte delle cose che ho mi piacciono tutte, quindi è difficile per me scegliere. Allora, in assoluto il top del top del top, il mio illuminante preferito in assoluto è questo qui, ve l'ho detto 1500 volte, me l'avrete visto un sacco di volte anche, è quello della saga di Twilight, Breaking Dawn, ed è di Essence, ed è questo bellissimo colore appunto sul dorato, e utilizzo quasi sempre questo qui, quando voglio andare sul sicuro, che non ci penso, non dico se voglio usare quello, e all'ultimo momento dico metto l'illuminante, mi metto questo, lo adoro, mi piace un sacco. Per tutt'altro effetto, sempre di Essence, mi piace questa qui, la Sun Club, la metto diciamo tra gli illuminanti e non tra le terre, perché sicuramente come terra, noterete, è un po' particolare, ecco, non si può definire secondo me una terra, per come la intendo io, cioè per il contouring, ma può essere appunto utilizzata un po' come per quella di Elf, la Sunkissed, su tutto il volto, però secondo me anche per quello è fin troppo, e io invece la vado ad utilizzare con moderazione per appunto illuminare, non illumino ovviamente di chiaro, ma vado a creare un riflesso che mi piace un sacco, ho truccato a capodanno la mia amica, e ho utilizzato questa su di lei sulle guance, perché lei non voleva il blush, assolutamente non lo voleva, ma voleva la terra, e quindi su di lei ho utilizzato al posto che è il blush, questa, per illuminare proprio questa zona, e scurirla anche allo stesso tempo, dare un po' un tocco abbronzato e luminoso, ottima, ottima anche per gli occhi, come vedete ha più colori assieme, quindi si possono andare a utilizzare anche singolarmente i vari colori, e ci si può fare un trucco proprio completo anche per gli occhi, con questa palettina qui, mi piace un sacco, questa è la versione, quella per le pelli scure, c'è anche quella per le pelli più chiare, poi, altra cosa che non è proprio un illuminante, ma che io utilizzo come illuminante, è questo Mosaic Blush di Mua, quello fatto così, che è appunto venduto come un blush, però è talmente chiaro, che io come blush non riesco a utilizzarlo, perché non mi piace l'effetto troppo chiaro sulle guance, perché esce un rosino molto molto tenue, molto chiaro, ma molto molto luminoso, e quindi io vado praticamente quasi sempre a prelevare le parti più chiare, quindi quelle appunto chiare, oppure sull'azzurro, che vedete sono anche i quadratini, quelli più consumati, e vado ad utilizzare appunto questi qua come illuminante, se poi voglio utilizzarlo come blush, vado invece a prelevare, come è possibile, la parte più scura, però se io vi faccio vedere nell'insieme, questo è il risultato, e vedete che, vediamo vi faccio vedere, vedete che non dà un colore da blush, ma va a illuminare di un rosa, un po' porciolino, e quindi diciamo che io l'utilizzo quando voglio cambiare ogni tanto, al posto che è un illuminante sul dorato, panna, sul rosa, e allora utilizzo questa, se poi metti, non ho dietro altro, ovviamente posso benissimo andare a prelevare la parte più scura, utilizzarla anche come blush, quindi può fare un po' di tutto, ecco, e per finire, se la posso fare, per finire, mi è piaciuto molto anche questo illuminante qui di Kiko, della collezione Dark Heroine, io ho lo 02, che è quello più, diciamo, giallastro, più dorato, rispetto all'altro che invece è proprio bianco, ma siccome è bianco, ho questo qui di Elf, sono andata su questo qui, più sul dorato, ed è molto carino, l'effetto è bello, è luminoso, ovviamente, illuminante, e mi piace, mi piace parecchio, mi piace quasi più l'effetto dell'illuminante, che quello del blush, di questa linea, ne ho due, anche quelli mi piacciono, però siccome di blush ne ho già più tanti, ce ne sono altri che preferisco, invece di illuminanti non ne ho così tanti, quindi comunque questo rientra tra quelli che mi piacciono di più. Poi, e con questo cassetto abbiamo finito, non vado con un ordine particolare, ma seguo l'ordine dei miei cassetti e delle mie cose, perché sennò faccio confusione. Allora, tra le matite preferite, Allora, tra le matite preferite, sicuramente le Long Lasting di Essence, adesso trovarne una, la vedo dura, dov'è? Non la trovo mai quando cerco qualcosa. Dove sono? Le Long Lasting di Essence, queste qui, automatiche, sicuramente sono delle matite favolose, costano 1,99€, durano tanto, si stendono bene, sono ottime, niente da dire, anche queste ve ne ho parlato più volte, sono conosciute, ottime, durano davvero tanto, una volta che le mettete rimangono lì finché vi struccate, ottime, ottime, e soprattutto costano pochissimo. Quindi queste, sicuramente, e altre che mi piacciono tantissimo sono invece queste qui di Wicon, queste io le adoro, infatti devo passare da Wicon appena riesco e vedere se c'è qualcosa in saldo, perché sono ottime, si chiamano Long Lasting Eyeliner, vabbè, e ne ho tre, sì, e sono fantastiche, perché sono super cremosi, però durano tantissimo, quindi quando si fissano, si seccano, rimangono lì e durano un'eternità. Scrivono benissimo all'interno dell'occhio e mi durano anche all'interno dell'occhio, cosa per me quasi impossibile. Quindi sono stra soddisfatta di queste matite e mi piacciono un'infinità, davvero, davvero, tanto. La mia preferita è sicuramente la, come si chiama, Long Lasting Eyeliner Gold Leaf numero 14, che infatti è quella più cortina e più consumata, vedete, rispetto all'altra, perché l'ho utilizzata parecchie volte, è un oro argentato, molto molto particolare, bellissimo, un effetto quasi liquido, spettacolare, bellissima sia all'interno dell'occhio che all'esterno, nei punti luce, ottimo, questa matita la rivolgo assolutamente, la devo comprare di nuovo, perché è fantastica, mi piace tantissimo, come anche questa azzurra, cioè, a me mi piacciono tutte in realtà, quindi tra, sicuramente, tra le mie matite preferite ci sono queste, e poi mi erano piaciute molto anche, dov'è? Questa, le Glamorous Eye Pencil, sì, non tutti i colori, ma qualcuno sì, e per esempio questa mi era piaciuta parecchio, di Kiko, questo bel colore qui, è la 403, è un colore marrone rossastro, un rame, molto molto bello, e anche queste durano parecchio, non quanto quella di Wicom, però ecco, siamo lì, come durata, ok, e, per le matite, direi che è tutto, poi mi piace, mi è piaciuta molto anche, la Twinkle Eye Pencil, di questa collezione, però proprio perché è nuova, vedete ancora nella scatola, non ve la metto, però anche questa sappiate, che mi piace molto, eyeliner, allora, eyeliner, beh, senza ombra di dubbio, mi è piaciuto, e mi piace un sacco, questa eyeliner, liner in gel di Essence, io purtroppo non ho mai trovato il nero, e sono tristissima per questo, questo è il marrone, che è il London Baby, lo 02, è un colore molto molto particolare, perché è un marrone, ma non è un marrone opaco, ma è ricco di riflessi, sul rosso argentato, ma non si vedrà mai da qui, comunque, ottimo, dura tanto, si stende bene, cremoso al punto giusto, mi piace tanto, peccato appunto, che le abbiano tolti di produzione, mi dispiace davvero, poi, tra gli altri tipi di eyeliner, dov'è? Uno, due, ok, ho una tipologia di eyeliner, che mi piacciono, che sono quelli glitterati, ma che mi piacciono, diciamo, non posso parlarvi della stesura, se si stendono bene, e se fanno una linea omogenea, perché essendo glitterati, la maggior parte delle volte, lasciano praticamente, una scia trasparente, ricca di glitterini, quindi comunque, con dei buchi, degli spazi tra l'uno e l'altro, non è mai una cosa precisa, però questi, per esempio, mi piacciono molto, per ottenere degli effetti particolari, questo è quello di Elf, ed è quello, si chiama Stardust, ed è quello, tipo trasparente, con tutti gli sberluccichini, di diversi colori, questo è quello di Kiko, ed è dorato, e mi piace moltissimo, anche l'applicatore di questo, perché è rigido, non è a pennellino, ma è a punta, rigida, quindi ottimo, si applica molto bene, e con questo, si riesce anche a fare, abbastanza bene, una linea di eyeliner precisa, e questo, invece, di Mua, questo, vabbè, una colorazione a caso, tra quelle che ho, questi, stessa cosa, di questo qua, di Elf, lasciano sì, una linea, però sono molto carini, anche utilizzati, proprio sopra gli ombretti, per creare, creare, l'effetto glitterato, quindi, questi qui, costano poco, quindi, ottimi, se invece, devo scegliere, l'eyeliner nero, allora, io di solito, mi trovo bene, con quelli in penna, la pecca di quelli in penna, è che, funzionano, per poco, quasi sempre, e poi si seccano, asciugano, magari inizia bene, a fare la linea, arrivi alla fine, e non scrive più, quindi sono sempre un po', a volte scomodi, da utilizzare, quindi, o utilizzo, questo qui, che è quello di Mua, l'Extreme Felt Eyeliner, che ha questa punta, così, e, mi ci sono sempre, trovate abbastanza bene, ed è quello che, fra tutti quelli che ho, mi abbandona, meno spesso, quando succede, che gli eyeliner in penna, mi abbandonano, vado, oppure, quando, voglio utilizzare, qualcos'altro, che non sia un eyeliner in penna, vado ad utilizzare, questo qua, di Elf, che è l'altro nero, che ho, insieme a, questo invece, vecchissimo, di Pupa, che però, ha un applicatore, un po' troppo grosso, per i miei gusti, quindi, non riesco a fare, una mia bella, questa carrellata, come eyeliner, mi piace molto, anche utilizzare, gli ombretti, in crema, quelli tipo, ve ne prendo uno, a caso, per farvi vedere, quelli di Astra, quindi, con una consistenza, un po' più, più che cremosa, quasi, mousse, liquida, e, tipo, questi qua, di Astra, sì, come liner, mi piacciono applicati, anche come ombretti, però, ce ne sono, come ombretti altri, che secondo me, sono meglio, quelli Astra, ne ho tantissimi, perché comunque, mi piacevano, e mi piacciono ancora, però, diciamo, che sono un po' difficili, da lavorare, e, tendono a seccare, molto, molto facilmente, per cui, ce ne sono altri, che preferisco, con una consistenza, diversa, allora, sicuramente, gli, Stay All Day, di Essence, sono ombretti, che, sono piaciuti a tutti, che mi piacciono, e che, anche adesso, che sono fuori, dei produzioni, tre, che ho, li utilizzo, e mi piacciono sempre molto, questo è uno, a caso, e hanno una consistenza, appunto, cremosa, un po' sul duretto, la stessa, durano tantissimo, tutto il giorno, ottimi, sa come base, che come ombretto da solo, li utilizzo, molto di più, come ombretti, appunto, da soli, perché, hanno dei bei colori, e durano, quindi, non c'è bisogno, di andarle a fissare, come ombretto, la stessa cosa, vale per questi qua, di Catrice, made to stay, anche questi, fuori produzione, purtroppo, ormai, e anche questi, hanno questa consistenza, qui, questo è uno dei colori, che preferisco, che è lo, 070, e si chiama, Movistare, ed è bellissimo, perché ha un sacco, di riflessi, appunto, sul, sul violaccio, molto, molto bello, e particolare, sicuramente, ottimo, 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 sono, i Pupa Vamp, quindi, crema e shadow, della Pupa, di questa linea, Pupa Vamp, io ho solo il 400, ma è bellissimo, più che come colore, che, vabbè, è niente di particolare, perché ne ho, di ombretti così, luminosi, e con questi colori, un po', misti, mi piace la consistenza, perché hanno una consistenza, cremosa, ma molto, molto morbida, soffice, facile da stendere, da lavorare, da sfumare, sia con le dita, che con il pennello, quindi, non create brutte macchie, cose strane, come magari, con quelli di, di, di Astra, o anche quelli, che vi faccio vedere, dopo, che tendono subito, a seccare, quindi, poi sfumarli, lavorarli, diventa un po' difficile, questi sono belli cremosi, non seccano così subito, si stendono bene, sono dei bei colori, ottimi, peccato il prezzo, questo, io ne avevo preso uno, con il coupon, e niente, questo, sicuramente, mi è piaciuto tanto, altri, che mi sono piaciuti, sono anche, i color shock, di Kiko, due a caso, che ho preso, sono questi due, e hanno una consistenza, appunto, molto, quasi liquida, una mousse, quasi liquida, quindi, sono fatti, inizialmente, sembravano, uguali, a quelli di Astra, ora, che li ho entrambi, da un bel po' di tempo, vedo che quelli di Astra, sono secchi, tendono a seccare, e a fare delle crepe, all'interno della jar, mentre questi sono rimasti, ancora belli, morbidi, cremosi, quindi belli, mi piacciono, stessa cosa, vale per quelli di Wicon, che sono, prestoché, identici, questo blu, è fenomenale, spettacolare, mi piace un sacco, e l'ho utilizzato, anche molte volte, come eyeliner, bello, e sicuramente, un ombretto in crema, che, è una, una novità, una bella scoperta, di quest'anno, una nuova uscita, di quest'anno, sono i Long Lasting Lustros, Eyeshadow, di Elf, della linea studio, che sono questi ombretti, dalla consistenza, un po' gelatinosa, tipo mousse, molto, molto particolari, molto belli, a lunga durata, dall'effetto, molto, molto glitterato, e luminoso, a me piacciono tanto, più che, da soli, applicati, proprio sopra, ad altri ombretti, per farne risaltare, ancora di più, l'intensità, il colore, la luminosità, i glitter, belli questi qua, ne ho cinque, di questi qui, e mi piacciono tutti, sono molto, molto belli, molto particolari, ottimi, e poi, per il prezzo, che hanno, assolutamente, sono consigliatissimi, poi, sempre, sull'asce, insomma, di prodotti, cremosi, e, a lunga durata, sicuramente, io adoro, il long lasting, di, elf, e elf, ma cosa dico, gli stick eyeshadow, di Kiko, Kiko, o Wicon, sono, presto che, identici, infatti, di Wicon, ne ho due, di tutti gli altri, ma tutti gli altri, sono di Kiko, ma perché, Kiko ce l'ho qua, invece, Wicon no, mi piacciono molto, sia questi, che quelli, per esempio, nelle edizioni limitate, sono ottimi, io li utilizzo spessissimo, sia come ombretti, proprio singoli, cioè, ombretti, utilizzati da soli, sia come base, magari, colori più chiari, sia come eyeliner, sia all'interno dell'occhio, che all'esterno dell'occhio, durano tantissimo, sono ottimi, li ho appunto di Kiko, di Deborah, che sono i due, che hanno il numerino, di Wicon, ottimi, 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 mi piacciono tanto, mi piacciono molto, anche le nuove colorazioni, che hanno appena fatto, niente da dire, se li trovate in saldo, o meno uno, se non l'avete mai provato, provatelo, perché sono fenomenali, altri, che mi sono piaciuti, di quest'anno, sono sicuramente, quelli di, Essence, quelli nuovi, di Stay, no matter what, si dice così, di Essence, io ho questi quattro, mi piacciono, molto, la durata, è ok, l'unica pecca, che ho riscontrato, in questo, soprattutto, mi è capitato, mi faceva un brutto effetto, quando poi andavo a asciugare, se per caso, lo andavo ad applicare, all'angolo interno, dell'occhio, sai, si mette la base, il fondotinta, il correttore, comunque, qui va, anche nell'angolo interno, quindi si stende qui, quindi forse, l'accumulo di troppo, i prodotti, sull'occhio, ha creato, un effetto poco carino, quando poi, questo è andato, a asciugare, a seccare, mi ha seccato, moltissimo, questa zona, mi dava quasi fastidio, alla fine, mi grattavo l'occhio, finché praticamente, lo tiravo via tutto, quindi, ottimi, perché comunque durano, sono dei bei colori, hanno una bella scrivenza, sono molto sfumabili, però, tendo a preferire, gli stick a shadow di Kiko, comunque, che mi piace molto, è anche questo qua, bianco di Zoe, ma in realtà, anche quello, anche questo qui, ne ho due, però, quello bianco, diciamo, è un valido sostituto, del milk, del milk, di NYX, io ho anche, appunto, quelli di NYX, però, continuo a preferire, gli stick a shadow di Kiko, sono, secondo me, migliori, durano di più, questi qua, a lungo andare, mi tendono ad andare, nelle pieghe, dell'occhio, quindi sì, belli, carini, però, mi aspettavo qualcosa di più, quindi, comunque, se devo consigliare qualcosa, consiglio sicuramente, quelli di Kiko, come palette, tra le preferite, vabbè, abbiamo la, Naked 2, Naked 2, che non ve ne sto neanche a parlare, perché, vabbè, si sa, e sicuramente, è stata, una delle, delle mie preferite, sulla shea, sempre, di colori nude, portabili, una tra le mie preferite, che ho usato tantissimo, è la Colorblock, High Palette, di, Vivo, che sono queste palette, qui, con questi, bei colori, e, le adoro, costano pochissimo, queste palette, hanno dei bei colori, sono molto scriventi, qualche colore, un po' colveroso, ma, niente di che, insomma, per il prezzo che hanno, di, cos'è, 3 o 4 euro, sono, ottime, come vedete, comunque, è molto utilizzata, questo panel, nero, scriventissimo, ha dei colori, portabili, qualcuno, un po' più forte, qualcuno, un po' più tenue, ma, è ottima, e questa, non proprio questa, però simile, con colori, sempre, sui toni naturali, è in palio, anche per voi, per i DVV che farò, che ve l'ho già detto, migliaia volte, però non sono ancora riuscita, a organizzare tutto, comunque, ne ho una da parte, per voi, quindi, questa, sicuramente, mi sono piaciuti, gli ombretti nuovi, della Nabla, però, stessa cosa, è un marchio nuovo, utilizzato poco, è un arrivo di dicembre, quindi, preferisco parlarvene, più avanti, mentre, consolidatissima, come, consolidatissime, come palette, sono sicuramente, queste qua, di Mua, sono belle, hanno dei bei colori, sono scriventi, sono davvero, ottime, ottimi ombretti, sia quelli opachi, che quelli shimmer, ovviamente, quelli shimmer, sono molto più scriventi, e rendono di più, di quelli opachi, ma sicuramente, sono degli ottimi ombretti, tra, ovviamente, le mie preferite, c'è questa qui, che è l'Undressed, che praticamente, è il dupe, diciamo, la coppia economica, della Naked 1, che io non ho, quindi, non so, non so dirvi, però, questi sono i colori, della, di questa palette, e io, mi ci sono sempre, trovata molto, molto, molto bene, si possono fare, un sacco di trucchi, dai più naturali, ai più forti, ottima, mi piace un sacco, e per il prezzo che ha, ve la straconsiglio, anche questa, ve lo consigliate, un sacco di volte, perché comunque, queste palette, sono davvero, economiche, ma molto, molto, molto valide, validissime, stessa cosa, vale per, le quattro, che ho, di Sleek, se però, mi cade tutto, se, vi devo consigliare, qualcosa, sicuramente, una di Sleek, da provare, ma perché comunque, cambiano i colori, quindi, hanno dei belle, proprio, dei belli, delle belle, degli abbe, accostamenti di colore, delle palette, fatte bene, con dei colori, che stanno molto bene, assieme, quindi, una, sicuramente, vi consiglio di provarla, però, se non avete grandi, particolari, pretese, io, punterei più su queste, perché sono più economiche, costano la metà, e hanno comunque, un, un'ottima, qualità, un'ottima resa, quindi, comunque, a parità, diciamo, di qualità, di prodotto, questa costa la metà, quindi, prima viene questa, ecco, però, anche quelle, slick, sono, favolose, appunto, ne ho quattro, ma l'ho vinta, in un giveaway, che culo, per una volta, e sono, comunque, ottime, mi sono piaciuti molto, anche i prodotti, della linea fashionista, io qua, ho quattro ombretti, un blush, e una terra, mi è piaciuta molto, questa terra, non è troppo, aranciata, però, neanche troppo, cioè, sì, in realtà, sì, una cazzata, è abbastanza aranciata, ho detto una cagata, niente, comunque, gli ombretti, mi piacciono particolarmente, sono, sono ottimi, come insomma, tutti gli ombretti, mua, quindi, ecco, carina, anche la palettina, altra palette, che mi piace molto, è quella, cioè, la mia, non è che proprio mia, è questa qui, che è della Z palette, dove io ho messo, alcuni ombretti, fatti da me, che sono quelli più piccolini, che vedete, e gli altri, invece, sono di Neve Cosmetics, anche questi, mi piacciono, mi piacciono molto, quindi, questa è un'altra, palette, tra le mie preferite, è un po' perché, l'ho composta io, e un po' perché, ci sono proprio ombretti, fatti da me, e poi, questi qua di Neve, mi piacciono tantissimo, sicuramente, tra le palette, che mi sono piaciute molto, però, in questo ultimo periodo, c'è la Color Impact, di Kiko, che mi è piaciuta tanto, però, anche questa è nuova, perché è un acquisto, recentissimo, di dicembre, però, devo dire, che mi è piaciuto subitissimo, come palette, e infatti, spero di trovare, di trovarne, anche le altre, in saldo, perché, mi sono piaciute, però, ecco, è un prodotto nuovo, quindi, non ve lo volevo, insomma, mettere, però, vabbè, già che era in giro, questa qui, quella sul marrone, insomma, la, come si chiama, Lounge Warm Tones, vabbè, la zero, come sempre, prodotti occhi, le palettine, allora, aspettate, che vi faccio vedere, una palettina, che mi è piaciuta molto, per scrivenza, non per i colori particolari, perché comunque, ne ho, sicuramente, altri simili, però, mi è piaciuta molto, la scrivenza, di questa palettina, qui di vivo, con questi tre colori, scrivono, da dio, sono molto belli, luminosi, durano, un sacco, quindi, io ho soltanto questa qua, però, non esistono, insomma, anche di altre colorazioni, questo qui, per il prezzo che ha, di pochissimo, tipo, uno o due sterline, sicuramente, è da provare, che mi sono piaciuti molto, sono anche, questi quad di Mua, fatti così, con più colori, e sono, scriventissimi, ultra, super, pigmentati, metallizzati, colori stupendi, o di queste, ne ho tre, e sono davvero, belli, 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 non li uso spessissimo, perché con tutte le cose, che ho, mi dimentico anche, di averle, alcune volte, le cose, però, belli, ora ci guardo, bellissimi, e, e poi, un'altra, però anche questa è nuova, però mi è piaciuta, comunque, è questa, High Transformer, di, Elf, che è una palettina, molto, molto particolare, perché contiene, questi quattro colori, che, visti così, sembrano tutti uguali, e sembrano di colori, pastellino, poco, poco scriventi, effettivamente, sono dei colori pastellino, ma, sono colori, che non si vanno, ovviamente, a utilizzare così da soli, ma si vanno a utilizzare, sopra altri ombretti, per creare, dei, degli effetti, dei riflessi, duochrome, e danno un effetto, molto, molto particolare, io l'ho utilizzata, solo una volta, o due, quindi, non ve ne so, parlare, molto bene, per ora, ma sicuramente, mi ha colpito, e quindi, una di quelle palettine, che è, una, comunque, una scoperta, del, del 2013, e che mi ha, incuriosito parecchio, quindi, non male, neanche questa, poi, che casino, stra casino, ce l'ho qua, ok, chiudiamo qua, passiamo agli ombretti mono, qua è un casino, perché gli ombretti mono, sono tutti qua dentro, sac, e ce ne sono, tantissimi, e, non saprei neanch'io, da che parte, iniziare a farveli vedere, perché sono davvero, un'infinita, allora, sicuramente, di nuovo, MUA, quindi, gli ombretti MUA, sono favolosi, ve ne faccio vedere uno a caso, questo è uno dei più famosi, il numero 12, della linea Pearl, che è quello che è, tipo, un duo chrome, che assomiglia, a un ombretto di MAC, o anche di Neve Cosmetics, insomma, comunque un duo chrome marrone e verde, molto molto particolare, bellissimo, sono scriventissimi, sono ottimi, costano una sterlina, quindi davvero ottimi, io ne ho, anche due opachi, però quelli Pearl, sono meglio, ma sono davvero, scriventi, belli, luminosi, durano, ottimi, poi, sicuramente, mi sono piaciuti un sacco, gli, come si chiamano, Water and Shadow, mi sembra, sì, ah, ma ne avevo altri due, gli Water and Shadow di Kiko, quindi questi, ne ho tre, presi in saldo, questo, vabbè, è uno a caso, mi piacciono molto, sono molto, molto belli, visti, stravisti, quindi non è che vi sto a dire, chissà che, si possono usare sia asciutti, che bagnati, ci sono diversi, colori, tutti molto, molto, molto belli, e sicuramente anche questo è uno di quegli ombretti che mi sono piaciuti tantissimo, poi, 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 ci sono degli ombretti, no, ma che casino, anche alcuni sono proprio ombretti magari singoli, ah, anche i mono di vivo non mi sono dispiaciuti per niente, sono questi qui, questo, vabbè, uno a caso, è il shade 1 sandstorm, vabbè, io ne ho presi, mi sembra due, potrebo questi qui così, col packaging quadrato, molto carino, anche questi non sono per niente male, mi sono appunto piaciuti i metal glam di essence, quindi questi qua, super, super, super luminosi, e morbidi, tant'è che appunto lasciate le ditate all'interno, vedete, anche questi, anche se vabbè, Moua rimane al primo posto, perché a parte il packaging con un po' scaccionino, perché plastica, cioè vabbè, tutto plastica, non è il massimo il packaging, però gli ombretti sono di una cosa, sono bellissimi questo colore, anche guardate che bello, che bellissimi, mi piacciono molto, poi, 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 mi è piaciuto anche, questo è ancora Moua, questo è Pupa, ma è nuovo, quindi non ve lo mostro, però mi è piaciuto, mi sono piaciuti molto anche, questi qui di Elf, questi qui, packaging tipo Nars, sempre così quadrati, molto molto carini, mi piacciono, il prezzo non è proprio bassissimo, però, quando li trovate in saldo, io ho provato a prenderne uno o due, devo dire che non sono male, durano, durano parecchio, i colori sono belli, questa è bellissima, mi piace un sacco, quindi così, qualche colore di Kiko, non mi dispiace, anche se, la qualità non è il massimo, cioè, non sono tutti uguali, nel senso che alcuni sono favolosi, scrivono benissimo, e sono dei bei colori, altri, no, per nulla, però, diciamo che in linea di massima, adesso che sono in saldo, si può scovare qualche colore carino, anche tra questi qui di Kiko, e, io ne ho alcuni, e non sono malvagi, anche se non sono i miei ombretti, ecco, preferiti, però, non sono, non sono male, dipende poi, appunto, dalle colorazioni, ecco, tipo questa qui, era molto molto bella all'inizio, mi piaceva tanto, infatti l'ho usata più degli altri, però come vedete, adesso all'interno, si è creata come una patina strana, e non è più così scrivente, quindi dovrei grattare via un po', quindi diciamo che, li consiglio perché, cioè li consiglio, li consiglio, sì, perché costano comunque poco, ora, e per chi, per esempio, non può ordinare internet, per esempio, quelli di Mua, questi sono un'alternativa, ecco, che, magari appunto, se non volete fare ordini, volete andare a comprare il negozio, per vedere i colori, potete trovare qualcosa di carino, anche tra questi qui, di Kiko, anche se sicuramente, se potete spendere un attimino di più, i water ashado, sono più una garanzia, quindi sicuramente, vi consiglio di più questi, e tra i mono, basta, ah beh, anche questo, un colore bellissimo, vedi Kiko, bello, 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 questo per esempio, mi piace tanto, ah, aiuto, cara, mascara, ah no, ho anche, mi sono dimenticata i correttori, che stupida, tra i correttori, sicuramente, un correttore che mi è sempre piaciuto, sia, proprio come, quasi, fondotinta, che come correttore, e sono gli all over cover stick, di ELF, costano poco, e sono ottimi, tanti colori, durano infinità, io li utilizzo appunto, sia come fondotinta, se ho dietro solo questi, che come occhia, ombretto per, straparlo, un correttore, o per gli occhiai, sull'imperfezione, a seconda anche della colorazione, ne ho di diverse colorazioni, proprio a seconda delle esigenze, e sono comodi, perché sono così, in stick, quindi, non male, non male, poi, ah, sicuramente, il mio correttore dell'anno, scoperta delle scoperte, e quello che in assoluto, più di tutti, vi posso consigliare, perché è una certezza, è questo correttore qui, di ELF, che purtroppo, mi sta finendo, infatti, sono disperata, perché è il correttore migliore, che ho per i brufoli, si chiama, ZZP, in concealer, e oltre a coprirli molto bene, li cura, ve ne ho parlato altre volte, di questo correttore, perché mi piace tantissimo, e, scusate, esiste anche, per esempio, in verde, quindi, per i rossori, io, vabbè, ho preso questa, questa versione qua, ed è ottimo, davvero, si, si stende molto bene, va a coprire molto bene le brufoli, una volta applicato, è asciugato, asciuga proprio, diventa come secco, e va a fissarsi, e copre i brufoli molto bene, oltre appunto, a farli andar via, quindi, quando ho dei brufoli particolarmente grossi, schifosi, utilizzo questo, primo, perché è l'unico che, me li copre, abbastanza bene, ecco, e poi, perché comunque, nel giro di qualche giorno, quando io vado ad applicare questo, il brufolo si riduce notevolmente, fino a scomparire, quindi, questo, assolutamente, lo adoro, costa 3 euro, prezzo pieno, se no, appunto, in saldo anche meno, e devo farne scorta, perché è uno di quei correttori, che mi ha davvero stupito, forse è l'unico, che mi ha davvero stupito, e che, mi piace assai, poi, un correttore, non male, non male, però, ecco, neanche, per le occhiaie, per le occhiaie, cioè, che io utilizzo per le occhiaie, questo qui di Kiko, il Natural Concealer, mi piace il fatto, che sia, molto cremoso, abbastanza coprente, si va a stendere bene, la zona contorno occhi, è abbastanza idratante, non secca troppo, non mi si infila, nelle pieghe, non ha una durata, eccelsa, però, non è male, altro correttore, sempre per le occhiaie, che mi piace, direi che, sì, è tra quelli che preferisco, per le occhiaie, è il Rolondi Garnier, anche questo, allora, non è, coprentissimo, però, ha un effetto, che mi piace, ecco, assolutamente, il fatto di, passarsi Rolondi, fresco, aiuta, ed è piacevole agli occhi, quindi, forse, anche quella è la sensazione piacevole, che deriva, dall'applicare questo prodotto, mi piace, come poi secca, cioè secca, come si asciuga, comunque, una volta applicato, in questa zona, non rimane troppo, lucido, come per esempio, era quello di, Elf, che, anche quello mi piace, però, rimane un po' più, l'effetto un po' troppo lucido, va, comunque, a coprire abbastanza, abbia una media coprenza, ecco, e poi dipende dal tipo di occhiaia, anche, perché non è che tutti i giorni sono uguali, non tutte le occhiaie sono uguali, però, in linea di massimo, un correttore per le occhiaie, che mi è piaciuto moltissimo, l'altro, è il Maybelline, che, dove è? Non ce l'ho, no, ce l'ho, era qui, dove è? Casino, dove è se, dove è se, ecco, il cancella, no, l'anti-età, cancella età, dove è? L'instant anti-age, il cancella età, questo qui di Maybelline, conosciuto, apprezzato, ed effettivamente, questo correttore, è ottimo, copre bene, almeno a me, copre molto bene le occhiaie, è molto confortevole, un po' più morbido, di quello di Garnier, ma dura, forse un po' di più, poi dipende, da che cosa applico sotto, e da che cosa applico sopra, per quello che non è mai, non so scegliere bene, tra i due, perché comunque cambia, in base ai giorni, a che cosa appunto, ho applicato, sul viso, al tipo di occhiaia che ho, comunque diciamo che questi due, sono i due, miei correttori preferiti, per le occhiaie, ok, insieme a, insieme a quello lì di Kiko, ecco, sì, che casino, ecco la parentesi correttori, che non c'entrava niente, però vabbè, dai, intorno agli occhi, quindi ok, altro prodotto, è il mascara, allora, come mascara, in assoluto, i miei due preferiti, sono questi due, cioè, il one by one, di Maybelline, che mi piace tantissimo, è quello con lo scovolino, in silicone, in plastica, rosso, era, vabbè, adesso non lo è più, così, un po' cicciottello, che va a dividermi molto bene le ciglia, le divide una a una, fa, eh, un bel effetto, le volumizza, le allunga, le separa molto bene, adesso è quasi finito, quindi l'effetto non è più come quello di una volta, però è stato davvero un mascara che mi è piaciuto tantissimo, eh, insieme al suo fratellino, dove è anche quello, no, quello è nella trousse, che ho, dal mio amoroso, quello giallo, eh, quello giallo, che mi vedete usare molto, molto spesso, però tra i due, questo, e vaffanculo, e sicuramente il famosissimo, I love extreme, che da quando l'ho provato, è stato amore, perché comunque, eh, a parte la piccola pecca, che ha lo scovolino gigantesco, quindi mi sposta, è una cosa a suo sfavore, perché purtroppo, è una palla, sporcarsi, quando hai tutto un trucco, bello fatto, bello opposto, vai a fare la passata finale, mascare, che dovrebbe essere il tocco, tac, e ti sporchi, ti girano le balle, però, eh, l'effetto che dà, se si ha un po' più d'accortezza, eh, nell'applicarlo, un po' più d'attenzione, è davvero fenomenale, dà volume, allunga, ha un effetto molto drammatico, molto, ciglia finte quasi, molto, molto, molto bello, eh, quindi assolutamente questo, è uno dei miei preferiti, mi sta piaciucchiando molto, anche, eh, però, l'ho lasciato da parte, perché comunque ho questi qui, aperti, e quindi volevo, terminare questi prima, però mi sta piacendo molto, anche il, aspettate, due, altri due, che sono, il volume, volumize, più active mascara, di Kiko, e, eh, il lashes go wild, di, eh, elf, e elf, essence, anche questi due, li ho provati uno, due volte, perché ero curiosa, però poi li ho lasciati lì, perché avevo gli altri da finire, e devo dire che anche questi qua, mi hanno fatto un'ottima, ottima, ottima impressione, quindi anche questi due, Poi, eh, ciglia finte, non ne voglio neanche parlare, perché, non ne voglio neanche parlare, i gloss neanche, non ne voglio neanche parlare, perché non sono, certo, il mio prodotto top, preferito, quindi, cioè, non so neanche quali farvi vedere, sì, forse tra i miei due preferiti, eh, ci sono questi qui, di, di elf, che si chiamano Lucius Liquid Lipstick, però non hanno niente del lipstick, perché comunque hanno una coprenza, sì, più di un gloss, ma molto, molto meno di un rossetto, quindi io li definisco più gloss, e poi mi piacciono i, dove? i, dove sono? ecco, i Revlon Super Lustrull, questi qui, che però sono vecchi come me, quindi non sono certo una scoperta, ecco, dell'anno, né il top dell'anno, perché comunque non li ho utilizzati, parecchio quest'anno, cioè non ho utilizzato proprio gloss, in generale, quindi li ho, però li utilizzo talmente raramente, che non riesco neanche a dirvi quali sono i, i top, ecco, però, insomma, passando alle labbra, e quindi, più che altro, ai rossetti, come matite, idem, la stessa cosa, ne ho qualcuna, ma talmente poche, che, non so, proprio parlarvene, non è un prodotto che utilizzo, che utilizzo, quindi, non ne ho, tra, i prodotti labbra, invece, sicuramente, che mi piacciono tantissimo, sono, le tinte labbra, quindi, io, vabbè, ne ho prese su tre a caso, ma la tipologia, comunque, di prodotto, è la stessa, e, non so, queste, per esempio, sono di Elf, questa di Wicon, questa di Kiko, e sono, ottime, quelle di Wicon, e quelle di Kiko, sono molto più simili, rispetto a quelle di Elf, ma anche queste, sono ottime, e, sono, praticamente, appunto, delle tinte labbra, quindi, dei prodotti che si vanno, applicare sulle labbra, da una parte abbiamo, diciamo, la tinta, dall'altra parte gloss, che io non uso, praticamente, mai, ecco, mi chiami amoroso, vediamo, la tinta sulle labbra, e dall'altra parte, c'è il gloss, che io non utilizzo, praticamente, quasi, quasi mai, perché preferisco, l'effetto, insomma, singolo, della tinta, sono un prodotto molto bello, perché, una volta che lo applicate, e si asciuga, rimangono lì, finché vi struccate, durano davvero tanto, vanno leggermente via, se mangiate, o bevete, ma, comunque, hanno una durata estrema, sicuramente, più di, un rossetto, o di altro, i prodotti, è sicuramente, il prodotto labbra, che dura di più, in assoluto, e le adoro, sono una cosa, favolosa, perché non vi dovete preoccupare, insomma, di bere, o mangiare, rimangono comunque lì, al massimo, ecco, si possono, crepare un pochino, e seccare le labbre, quindi, se le avete molto secche, crepandosi, si noterà un po' di più, che, magari, sta andando via il colore, però, secondo me, sono ottime, mi piacciono un sacco, infatti, ne ho appunto parecchie, perché è uno dei prodotti labbra, che preferisco, quindi, questo è un assoluto, sono un top, mi piacciono molto, anche le tinte labbra, fatte a pennarello, anche di queste, ne ho parecchie, mi piacciono, perché sono, non waterproof, perché, non è waterproof, non so come dire, non macchiano, quindi, una volta che le mettete, se hanno una tinta liquida, molto liquida, è proprio come un pennarello, va a assorbirsi, e se voi fate il classico stampo, non lascerà il segno, però, tendono ad andare via, se mangiate e bevete, quindi, le amo in modo differente, e per diverse occasioni, nel senso che, se so che devo andare a bere e mangiare, questa non va bene, mentre, per esempio, se devo andare al lavoro, o comunque so che devo parlare tanto, posso rischiare di mettere un colore scuro, sulle labbra, senza aver paura che mi va in giro, o che mi sporco con qualcosa, perché appunto, una volta messo, rimane lì, a meno che appunto bevete o mangiate, però anche questa è una tipologia di prodotto, che mi piace molto, ne ho diversi, le ho di, questa è di Rimmel, le ho di Deborah, di Kiko, e della New, di Kiko, eccole qui, e della, dove è? New York Color, due, questi qua, sono della New York Color, vabbè, ne ho di diversi tipi, quelle della New York Color, sono belli colori, ma non hanno la parte, con il burro cacao dall'altra parte, quindi, non sono diciamo, tra i preferiti, per quello, stessa cosa, Kiko, mentre, tra Rimmel, e Deborah, siamo lì, siamo molto lì, quelli di Deborah ne ho di più, questo Rimmel ne ho soltanto uno, quindi, non so parlarvene tantissimo, perché comunque, ne ho provato soltanto uno, questi qua, di Deborah, comunque, mi piacciono molto, e tra quelle che ho, penso, siano le migliori, queste, per esempio, le avevo trovate a 2 euro, ad acqua e sapone, quindi, davvero, una cavolata, e ne vale la pena, se non le avete mai provate, anche questo, è un prodotto che, va provato, secondo me, perché quando avevo provato la prima, mi ero trovata benissimo, mi piaceva un sacco l'effetto, e mi piace, quindi, queste, ottime, poi, rossetti, allora, vi ho fatto una testa tanta, con i rossetti di Elf, perché sicuramente, sono dei rossetti, molto, molto, molto carini, e sono questi qui, per quello che costano, sono ottimi, mi piacciono molto i colori, uno dei miei colori preferiti, è il Classi, che è, non è questo, dov'è? Boh, vabbè, non lo trovo, comunque, sono davvero, ottimi, e costano poco, però, per qualità, non sono il top, del top, tra i rossetti, che mi piacciono davvero, molto, ci sono, quelli di, NYX, il video, non ve l'ho ancora fatto, mi sa, lo vedrete, ecco, una cosa da dirvi, appunto, questa, che, qui, ho fatto vedere i prodotti, però, e questo video, cercherò di caricarlo, il primo possibile, essendo poi, in collaborazione, per gli altri video, io cerco di andare in ordine, per come ho acquistato le cose, e come ho girato il video, quindi, sto caricando adesso, video di quest'estate, dei saldi di quest'estate, l'acquisto, insomma, di questi rossetti, o di altre cose, è avvenuto dopo, non l'avete ancora visto, però, io il video l'ho girato, e piano piano, vedrete anche quello, però, questo essendo un video, conclusivo, diciamo, dell'anno, ci ho messo dentro, anche le cose, che non vi ho ancora fatto vedere, il video haul, e lo vedrete, insomma, poi, comunque, tra i miei rossetti preferiti, c'è questo di NYX, in particolare, mi piace molto, il colore Iconic, che è un colore, molto particolare, è un nude malvato, chiamiamolo così, che mi piace molto, 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 simile al T-Rose, più famoso, mi piace molto, e questi rossetti, sono, sono ottimi, mi piacciono, insomma, niente da dire, poi, per quello che costano, validissimi, altri rossetti, scoperta, dell'anno, sono sicuramente, quelli nuovi, di Essence, questo è il Barley Dare, anche questo è un colore, secondo me, molto, molto bello, particolare, però, mi piace molto, ma, io ne ho, quattro, sì, e sono tutti, molto belli, questo è il mio preferito, On the Catwalk, che è lo 04, ed è, secondo me, favoloso, bello, hanno un'ottima, resa sulle labbra, un'ottima stesura, sono molto morbidi, quindi non seccano, durano, non tantissimo, però abbastanza, hanno un ottimo compromesso, tra la durata, e l'idratazione, la morbidezza, la confortevolezza, sulle labbra, perché si sa, che i rossetti, che durano di più, sono anche quelli più scomodi, e più secchi, sulle labbra, e per forza di cose così, quando un rossetto, è morbido, idratante, confortevole sulle labbra, non va in giro, e per di più, comunque, un pochettino dura, direi che è l'ideale, questi sono una giusta via di mezzo, un po' come quelli di NYX, quelli di NYX, forse sono un pochino, troppo più morbidi, quindi hanno un effetto, davvero molto idratante, sulle labbra, ma tendono magari, a viaggiare, un po' di più all'esterno, perché sono davvero morbidissimi, questi, li preferisco, forse addirittura, a quelli di NYX, rossetto, che mi è piaciuto tantissimo, sono stati questi qua, di Deborah, che sono i 24 ore power, e sono long lasting lipstick, ma davvero long lasting, e questi sono favolosi, perché, questo va per colore, anche questo colore, mi piace un sacco, una specie di arancio rosso, bello, dura davvero tantissimo, tantissimo, voi, lo mettete, e, anche qua, è un po' come, quasi una tinta, più col rossetto, perché davvero sta, sulle vostre labbra, delle ore, anche mangiando, e, bevendo, ovviamente, se mangiate, che vi strafogate, e che le labbra, lavorano tanto, un po' tenderà a andare via, però non è una durata, davvero eccezionale, 24 ore magari no, però, ottimi, poi, aspettate che guardo, cos'altro c'è lì, che mi piace, vabbè, Mua, li conoscete, ve ne ho già parlato, parecchie volte, niente da dire, su questi rossettini, soprattutto per il prezzo, durano, non sono confortevolissimi, perché comunque, tendono un pochettino, dopo a lungo andare, nella giornata seccare, però, sono abbastanza lucidi, belli, costano poco, ottimi, anche questa è una durata, non ovviamente altissima, cioè non a livelli di quello del Deborah, ovviamente, però durano, calcolando sempre che sono rossetti e non tinte, quindi ecco, questo, poi, ah, il Lip Boom, anche quello, questo colore, secondo me, è eccezionale, ed è l'OMG, che è questo arancio, bellissimo, non so quanto mai renderà in video, vedete, non lo so, però davvero molto bello, questi sono matt, assolutamente matt, poi dall'altra parte c'è il gloss, che vabbè, non mi fa impazzire, perché è tutto spieno di sberluccicosi, di glitter, anche grossi, quindi, mi dà fastidio sulle labbra, però la parte con il rossetto è ottima, ha un profumo favoloso, mi piace l'effetto matt, belli, mi piacciono, ne ho quattro di quelli, mi piacciono tutti e quattro, anzi, ve li faccio vedere, sono questi quattro qui, e sono secondo me i colori più belli, che sono l'MK, che sarebbe l'Etmic, no, se non sbaglio, che è un rosso scuro scuro, il Bring It, che è un rosso invece fuoco, l'OMG, che è quello che vi ho fatto vedere, il Dying Good, che invece è una specie di, no, non ce l'ho, è una specie di nude, questo qua più scuro, un color carne, ecco, scuro, è bello, mi piace, portabili, abbastanza natural, mi piacciono, mi piacciono, mi piacciono, e quindi, ecco, questi, questi costano, tre sterline, a prezzo pieno, io li avevo presi con una promozione, quindi tipo, uno era gratis, ne prendevi tre, cioè ne pagavi due, uno era gratis, una roba del genere, e mi sembra di, avervi fatto vedere, più o meno tutto, più o meno, sopracciglia, io ho l'unica e sola, la matita Essence, questa qui, forse è troppo scura per me, dovrei prendere, quando mi finisce, però, perché tanto le sopracciglia è già abbastanza definite, quindi la uso proprio raramente, dovrei prendere quella, più chiara per le biondi, che forse è meglio, perché questa mi sembra quasi un po' troppo scura, però insomma non è male, non mi dispiace per niente, anche questo prodottino qui, strautile, strautilizzato in quest'anno, che è l'Elfa Makeup Remover Pen, quindi è una penna, praticamente imbevuta di liquido, struccante, che è molto utile, quando state magari, facendo un trucco molto definito, o se per esempio applicate l'eyeliner, io principalmente lo uso per quello, per andare a correggere, praticamente l'errore fatto, ed essendo fatto appunto a pennarello, appunta così, è molto, molto comodo e preciso, per andare a rimuovere, insomma l'errore, e anche questa, mi è piaciuta tantissimo in quest'anno, altro prodotto, e poi abbiamo finito, mancano solo i pennelli, però quelli ve li faccio vedere, molto alla svelta, questo è un prodotto nuovo, nel senso che ce l'ho da una settimana circa, ma mi ha subito fatto impazzire, quindi ve lo cito, anche se appunto ho detto, che non ve ne parlavo, dei prodotti nuovi, ma visto che vi ho fatto vedere, anche altre cose, che ho detto no, no questa non dovrei farla vedere, però ve l'ho fatta vedere, perché la coerenza è importante, allora insomma vi faccio vedere anche questo, che è il Perfect Eye Duo Eyeliner Pansy, di Kiko, che è fenomenale, e favolosa, io l'utilizzo come matita, appunto color burro, all'interno dell'occhio, sarebbe un prodotto per l'esterno dell'occhio, per andare a illuminare, da una parte la punta opaca, color panna opaco, e dall'altra parte invece, un po' più perlato, più lucido, e sarebbe per andare a, enfatizzare, alcuni punti dell'occhio, come appunto, la cata sopraccigliare, o l'angolo interno, c'era scritto, sulla confezione, solo per uso esterno, ma io mi ci trovo divinamente, ad applicarla all'interno dell'occhio, per l'effetto appunto, che dà, la matita bianca, o color burro, o comunque la matita chiara, di ingrandire l'occhio, utilizzo la parte opaca, all'interno dell'occhio, scrive che è una meraviglia, a differenza di alcune matite bianche, che ho, che non mi scrivono nulla, e quindi non posso utilizzare, praticamente per nulla, perché lo scopo per cui le ho, è quello, e non va, questo invece è ottimo, e quindi nonostante appunto, sia nuovo, sono già certa, che sarà un prodotto amatissimo, anche nel 2014, perché mi sta piacendo davvero tanto, l'ho acquistato in saldo, quindi a 4 euro qualcosa, 3 o 4 euro, e ottimo, ottimo, poi, allora, tra i pennelli, oddio, i pennelli è proprio difficile, perché, non tanti, però, diciamo che, con certezza, vi consiglio sicuramente, l'acuro, il mio amatissimo acuro, numero H54, però è andato via, non si vede, comunque questo fatto così, che io utilizzo per, l'applicazione del fondotinta, o della baby cream, o insomma di tutto, quando faccio la base, utilizzo questo pennello, quasi sempre, utilizzo questo, mi ci trovo divinamente, morbidissimo, perfetto, altro pennello, ovviamente amatissimo, è il famosissimo, Pounder Brush di Elf, anche questo, vabbè, ce l'ho da un bel po', quindi non è proprio, una scoperta di quest'anno, ma è comunque, un pennello amatissimo, utilissimo, con questo pennello, si può fare praticamente tutto, quindi, ottimo, e anche il prezzo, è ottimo, e poi, poi, vabbè, pennelli insomma un po' più piccolini, mi sono trovata molto bene con, questi qui, che allora, questo qua è quello del correttore di Elf, ed è il pennello che io utilizzo sempre per il correttore, sia sui brufoli, che sugli occhiaie, ottimo, questo invece è un pennello della Crown Brush, che io utilizzo per l'illuminante, o comunque anche sugli occhi, utilizzo anche magari per il contouring del naso, utilizzo anche per il correttore, utilizzo per un sacco di cose, quindi mi piace un sacco, lo adoro, mi piace la sua forma, mi piace, e poi questi due, sempre di Elf, molto carini, piccolini, un duo fibre, che utilizzo per il contouring, utilizzo per il blush in crema, e mi piace, e anche questo qui stessa cosa, utilizzo per il contouring, utilizzo anche magari per il correttore, sotto le occhiaie, scusate, per la cipria, bellissimo anche questo, mi piace, poi, di pennelli, vabbè, da cipria, ce ne sono tanti, e bene o male, sono sempre uguali, vabbè, ve ne faccio vedere uno per tutti, ma, potrei farvi vedere anche quello di Elf, potrei farvi vedere anche quello di Essence, quindi siamo lì, cipria, questo qua è di Catrice, piccolino, è carino, stanco in piedi, questo non è male, pennelli, scusate, pennelli occhi, allora, sicuramente i miei preferiti sono, dove sono? ah, ecco, anche, il mio preferito non c'è, bene, che è quello di Zoeva, il 227, che è simile, simile Mac, 117, però, ho qui il 227, quello vegan, che mi piace meno, però mi piace, poi ho il C200 dell'Axe Craze, della Crown Brush, che è un pennello invece da sfumatura, questo invece vegan è fatto così, poi mi piace moltissimo il C Brush di Elf, della linea Studio, mi piace anche stranamente un pennello Kiko, che è il 213, infatti così, in questi qua sempre un po' ciucciotti, mi piace a me questo qua, poi come pennello, ah, mi piace tantissimo, questo qui è sempre del Crown Brush, che è il B7 Small Pointed Contoured, che è bellissimo, è comodissimo, quando dovete fare dei dettagli più scuri, magari nell'angolo esterno, o nella piega, mi piace un sacco, poi come pennello, diciamo, da, a punta, ma a punta, sì, a penna, vabbè, testare sull'economico, ma a parte che è anche questo economico, sono tutte e due economici, mi piace molto, sia questo qua di Elf, della linea classica, insomma base, che questo qui sempre di Crown Brush, della linea questa qua rosa, questo è proprio la puntina, mi piace tantissimo, questo qui, un altro pennello che adoro, piccolissimo, ma utile, davvero, questo qui, sempre di Crown Brush, non ha scritto nome, quindi, né numero, né nome, quindi non so dirvi, però, è questo qua, minuscolo, minuscolo, che io vado ad utilizzare, per i dettagli, punti luce all'interno dell'occhio, o per fissare la matita, nella rima interna, mi piace un sacco, mi piacciono i pennelli angolati, quindi, tipo fatti così, morbidi però, non come, per esempio, questo qua, rigido per eyeliner, vedete la differenza tra i due, si vede, sono tutti e due angolati, però questo è quello, diciamo, morbido, e questo invece è quello più rigido, che si può utilizzare per il sopracciglio, per l'eyeliner, per l'eyeliner, sicuramente, utilizzo un pennello così, per le sfumature degli occhi, vado a utilizzare questo, che mi ci trovo molto bene, per creare la via esterna, perché io vado ad applicare il pennello qui, e lo porto direttamente nella piega, mi crea già la sfumatura, in modo abbastanza decente, ecco, quindi, comunque facilita il lavoro, avere un pennello così, quindi anche questo mi piace, questo è semplicissimo di elf, mi piace molto anche quello che ho nel set, della neve, neve, dov'è? Aspettate, già che ci sono, facciamo le cose per bene, facciamolo vedere, il, dov'è? 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 ah, eccolo, il rosa hangled, questo qui, che è bello anche un po' cicciottino, mi piace molto anche questo piatto, sempre dello stesso set, e anche questo qui da cipre, troppo pomposo, troppo bello, morbidoso, grosso, mi piace tantissimo anche questo, e vabbè anche questo, in realtà, che è molto simile al mio acuro, quindi infatti quando, per esempio, l'acuro è sporco, vado ad utilizzare questo, e niente, è tutto, sì, penso di avervi fatto vedere, e detto più o meno tutto, mi sembra, spero, nel fortempo fuori è venuto buio, io dovrei preparare una tesi, invece sono qui a fare queste cose, mannaggia la miseria, anche io, poi dopo mi dispero, perché sono indietro, e vabbè, ero un po' giù di morale, perché, non lo so perché, sono un po' giù di morale, quindi ho preferito fare una cosa piacevole, piuttosto che, mettermi lì e fare le cose fatte male, perché sono giù di morale, ho detto faccio una cosa che mi piace, giro un video, e almeno mi rilasso un attimo, e mi passa un po' la paturnia, stasera poi devo andare al lavoro, inizio alle 8, finisco alle 2 del mattino, perché abbiamo l'inventario, io come sono felice, io che contenta, e niente, io vi auguro tante belle cose, e niente, il video dei flop, lo giro in un altro momento, perché, ora non ce la faccio, direi che è venuto il momento, di fare qualcosa di costruttivo, quindi, non ho tempo ora, lo girerò in un altro momento, intanto, intanto, insomma, ringrazio tantissimo, la ragazza, insomma, che collabora con me, di Bergamo, spero che magari un giorno, ci riusciamo anche a incontrare, a vedere, perché è un'assurdità, c'è gente che organizza video incontri, e robe del genere, anche se stanno lontane, noi che siamo qui di Bergamo, non ci siamo ancora viste, però, ognuno ha i suoi impegni, quindi, tempo al tempo, ecco, intanto, ti mando tantissimo, un bacio, mia compaesana, sono felicissima di questa collaborazione, la trovo una cosa molto, molto carina, e magari un giorno ci vediamo, andiamo a fare shopping assieme, magari, e niente, intanto, ti saluto, ti ringrazio, ovviamente tutti voi passate dal suo canale, se non la conoscete, vi lascio ovviamente il link del canale, e del video, come al solito sotto, nell'info box, a me mi sta venendo anche mal di gola, mi sto ammalando, mi sa farà per questo che sono un po' così, boh, e niente, per ora è tutto, alla prossima, un bacione, ciao ciao!